E' una programmazione che riteniamo fondamentale proprio perché uno dei punti chiave della nostra amministrazione sarà lo sviluppo turistico della città e quindi è fondamentale riuscire a programmare il futuro per ottenere i risultati migliori possibili, anche perché come dicevamo in precedenza l'obiettivo è quello di accraiscere sempre di più i nostri grandi eventi come la Fiera Nazionale del Tartufo ad esempio che nel decennio 2009-2019 è riuscita ad ottenere il titolo di nazionale, mentre adesso ci riproponiamo di puntare al titolo di internazionale, ci vorrà del tempo ma è proprio con la programmazione che si arriverà ad ottenere gli obiettivi. A Pergola tornano i grandi eventi e vogliamo promuovere questi grandi eventi con un claim, quello delle tre S, sapori autentici, storia millenaria e sensazioni indimenticabili. I sapori autentici sono quelli del nostro tartufo bianco pregiato di Pergola, del nostro visciolato che viene trasformato in maniera artigianale con maestria in un vino dolce, il visciolato che è noto per le sue proprietà organolettiche e anche qualcuno dice per le sue proprietà afrodisiache. Poi abbiamo la storia millenaria che è quella dei nostri bronzi dorati di Pergola, i quintali di oro e di bronzo fusi oltre 2000 anni fa per dare vita ad un gruppo bronzio unico al mondo. Poi abbiamo le sensazioni indimenticabili, quelle che offrono i nostri borghi, le nostre città, i nostri panorami straordinari.